Situazione tipica, stai con una persona, tendenzialmente è un uomo, perché sono gli uomini soliti fare ste robe, che ti promette mare e monti, sei la donna della mia vita, nessuna è mai stata come te, nel senso che mai nessuna ci è stata come te, ma vabbè, sì voglio figli con te, una casa, due case, dodici figli, poi a un certo punto di belle buono sparisce nel nulla, ok? Non si ride su queste cose, bisogna essere seri. Il tutto avviene ovviamente nell'arco di due mesi, perché è credibile una persona che in due mesi ti dice voglio un figlio, ma tu ci credi, perfetto, premio furbizia, molto bene. Poi scopri che questa persona si è allontanata perché ha trovato qualcun altro, devastazione, dolore, stai per finalmente uscire da questa situazione, sono passati tipo tre mesi, cioè una vita condensata in tre mesi, la gente è capace di questo e lui ovviamente torna. E tu cosa fai? Perché sei furba, perché sei furba. E' l'unico modo per descrivere questo comportamento. Dici, vabbè dai, diamogliela un'altra possibilità, che ci sono le tue amiche che fanno... e tu le guardi con, tu avresti fatto la stessa cosa, e allora loro dico, beh sì, in effetti una seconda possibilità si concede a chiunque. No, una seconda possibilità non si concede a chiunque. Una seconda possibilità non si concede a una persona che già ti ha dimostrato poco equilibrio, promettendoti mare e monti troppo presto. Tu dimostri meno equilibrio di quella persona, credendole. Poi quella persona va via, perché ovviamente la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E poi quella persona torna. Se tu la riaccogli, tu vuoi il tuo male.